Ciao a tutti ragazzi, lo so, sono stato assente da tanto tempo e che non carico un video su Matteo TV Channel, raga, ma oggi riprenderemo e oggi in questo video faremo un prank ad Alessio TV, raga, su Instagram, ma che prank farò, raga? Farò un prank dove gli dirò che voglio, che mi voglio suicidare e morire, perché, tipo, la vita è triste e cose di questo genere. Raga, se volete un altro prank, magari lo so che sono in attivo da un bel po', ma voglio almeno, raga, almeno, almeno, 5 mi piace per questo video, lo so che ci possiamo riuscire. Oggi gli diremo invece che voglio morire in questo nuovo prank e, raga, scriviamoci, scriviamogli subito. E gli scrivo, ehi, al, ti devo parlare subito. Tipo, raga, gli scrivo che gli voglio dire addio, che mi voglio ammazzare, perché la vita magari è triste, raga, solo a me mi capitano questi prank, raga. Sono io la mente geniale. Dai, raga, spero che risponda. Vi sono realizzato, raga, calma. Calma, raga, calma, 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 ha risposto. Dimmi. Non, io gli scrivo, raga, non è facile. Non è fa... Fai dai tasti di automatica facile. E... E' una cosa brutta. Che... Voglio fare. Non è facile. E' una cosa brutta che non voglio fare. Raga, sto registrando sempre alle 3 di notte, perché ho finito ora di fare un video di Brawl Stars, quindi pensate voi, raga. Non è facile, è una cosa brutta che voglio fare. Vediamo cosa scrive lui, raga. No, no, no. Le mie chat private, non ti do, no. No, raga, ma con le prank, questo che dice prank? No, vi posso dire, raga, allora, allora, allora. Non è... No, aspetta. Non è... Non è... Un... Un... Prack. Hai... La... Mia... Parola. Lo... So... Che... Questa cosa, raga, ora che gli dico così la faccio aspettare un po'. Lo so che quello... Che è quello che... Ti sto... Che ti sto... Per dire... Non ci... Crede... Crederai mai. Allora, raga, vediamo cosa dice lui. Lo so... Vediamo cosa scrive lui. E ci vediamo appena scrive. Raga, lui ha scritto il tocco. Ma vediamo, vediamo, vediamo. E sta scrivendo ancora... Da cosa. Ora, raga, io vado al dunque. Siccome Questa Vita E Perché città Tassiera domandica questa vita Perché vita? Con due t. Perché Questa vita Siccome questa vita è Come gli posso dire, raga, allora Siccome questa vita è E' sempre E' sempre Stata Così Nera Con Me Vediamo se non facciamo errore di ortografia Di ortografia Siccome questa vita è sempre Stata Così nera con me Mi Voglio Su I C Scrivo così, raga, su Qui C'è Da Mi Voglio Mi Voglio Ragà Come io posso scrivere Voglio Fare Una cosa Brutta Mi Voglio Suicidare Così Mi Voglio Suicidare Vediamo cosa dice lui, raga, appena lo iscrive Non ce la faccio più Ragà, io gli scrivo Ora scendo nel nostro quartiere E mi Ammazzo così, raga, tutto Deletto Io Ora Sto Scendendo E Mi Ammazzo Raga, vediamo cosa risponde lui Così di botto, raga, se si preoccupa Ci dico subito quando ha break Perché, raga Vuol dire che se lui La vera amicizia si vede da qui Perché se lui mi scrive che si preoccupa Ci tiene alla nostra amicizia, raga Pure se Pure se De un prank Allora se scendi tu vieni sotto a casa mia E io ti ammazzo io A sto punto mi vuole ammazzare io Ma Che Dici Tu Non Lo Faresti Mai E Ora Ti Dico Addio E ora Ti Dico Addio Addio Fra E Sta E Stato E Dai raga Musa Da sera E Stato Bello Bello Conoscerti Mi 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 manche Anche Dai Tanto No No Voglio fare il pollice Facciamo le faccine che piangiamo Le faccine tristi Addio Addio Fra Ora Ora Lui Alessio Tipo Raga Preparatevi Perché sto preparando un prank Di quelli prank raga Questo è per iniziare con i prank Prima che ti ammazzi Cosa 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 Vediamo cosa scrivere La vita è piena di cose belle Sono sempre quelle che ti Fanno sorridere Quindi non ti devi Ascolare Io gli scrivo per l'ultima volta Addio Addio Amico Mio E gli metto però una faccia Mezza sorridente Gli metto questa raga Vediamo cosa scrive Sono 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 Stati Belli Belli E dai D'assero belli Bellissimi Mi No raga Glielo Dico Don't Brink Pran No raga Ho sbagliato a scrivere Le prank No raga Ho sbagliato a scrivere Le prank Non dire Bela raga Per questo prank è tutto Glielo abbiamo fatto È stato un bel prank a mio avviso Quindi 5 mi piace E ne farò un altro Quindi tutto dipende Da voi Se siete inutivi Penso che in 200 iscritti Siete ancora attivi Per essere di catino Raga Lo lasciamo subito È Bella Grazie 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 Grazie